Ciao ragazze, ciao a tutte! Oggi vi propongo un progetto molto semplice da realizzare con i vostri bimbi. Visto che si avvicinano alle vacanze di Natale, ho pensato fosse una buona idea pensare a qualcosa di molto facile, molto veloce da realizzare con loro. Si tratta di un segnaposto, un segnaposto a forma di pupazzo di neve o pupazzetta di neve, insomma, femminuccia. Spero che l'idea vi piaccia, vi lascio al tutorial. Mi raccomando, se il video vi piace lasciatemi un like e condividetelo con le vostre amiche. Un bacione, ciao! Ricordatevi, se create seguendo uno dei miei tutorial, di usare l'hashtag su Instagram CreaConJupy, così la vostra foto apparirà in uno dei miei prossimi video. Per realizzare il nostro piccolo progetto ci occorrono due pompon, uno leggermente più grande dell'altro, due occhietti mobili, due bottoncini rosa o del colore che preferite, un rettangolo di panno lenci, sempre colore a scelta, due formine a forma di cuore realizzate in feltro, un pezzetto di panno lenci rosso, delle stecchette di legno simili a quelle del gelato, dei fiorellini decorativi e delle stelline decorative. Per finire la pistola quella colla a caldo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!